Buonasera al Comune di Mercato San Severino con TV3 Web con l'assessore Giuseppe Albano che ci lancia un messaggio e un invito. Salve, buonasera. Con l'assessore all'associazionismo invito tutte le associazioni per il giorno 6 marzo all'ora 16 presso la nostra sala del Consiglio Comunale in quanto sarà un momento di confronto e di coordinazione tra tutte le associazioni. Ripeto, come sempre detto, le associazioni sono il cuore pulsante della nostra società. Quindi è necessario creare un centro di coordinamento tra le associazioni al fine di fissare degli obiettivi precisi per la nostra comunità.